Real Catania-La Meridiana accende i riflettori nell'elite, gruppo B allievi. Il derby di città da un lato per dimenticare Ragalna, il K.O. con la Team Sport e confermarsi ai vertici, dall'altro per spumeggiare dopo sei risultati utili di fila e chiudere il campionato col pollice in su, magari nella parte sinistra della classifica. Formazioni, il Real con Notaro e Inzabella Terzini, Giuffrida, centrale di difesa, il tutto per le notevoli assenze di Muret, Carini, mentre Storniolo è in panchina. La Meridiana recupera Castorino in mezzo al campo e inizia con Lanzano lì dietro. Cicirello va in panca e Maimone si sposta di corsia. Inizio Neroverde-Marano per sapere che va lungo a caccia di Abate, diagonale secco sul fondo. Marano di potenza da 25 metri, la palla si alza quel tanto che basta per finire sul muro, lato nord del Seminara. La Meridiana è compatta, subisce sempre meno col passare dei minuti. Lanzano è un riferimento e prende le contromisure ad Abate. Poi alza il baricentro, Bonaccorsi dall'altro lato, da spettacolo, cede a Cordovana il ruolo di basista per scatenare l'iniziativa di Garozzo. Sinistro, micidiale sotto la traversa, l'ex Pollicano dispensa emozioni, sponda Real. Tempi accelerati per i bianchi ospiti, come dice il calendario. Ancora Garozzo al tiro, ma stavolta è la traversa a opporsi. Saliu pronto alla correzione, a rete trova accidentalmente Cordovana e si rimane sullo zero pari, anche quando Calì, da 50 metri, colpisce la traversa sul calcio di punizione per Garofalo ai suoi. E più di un campanello d'allarme, anche se l'half time dice equilibrio di occasioni e di reti. Entra Coco, il Real cerca vivacità al rientro in campo, ma a fare di più è la Meridiana. Purizione di Lanzano e Calì di testa in offside, manda al lato. Minuto otto, Maimone dall'out. Palleggio di Conti, che la difende, spalle a porta e avversari, per poi crossare e invitare sull'ascensore Saliu. Il colpo di testa d'angolo vale lo 0-1 e il quindicesimo gol stagionale dell'attaccante della Meridiana. Il Real reagisce e ci prova con la volontà, ma non va oltre questa combinazione aerea. Marano-Sciuto, tutto agevole per Montoro, che al minuto 15 fa partire Saliu. Prolunga su Conti, l'azione si accentra a metro dopo metro e Cordovana la fa cambiare di fronte per trovare buon accorsi al suo fianco. Pollicano respinge proprio sulla testa della mezzala, che raddoppia gelando i nero-verdi. E a mezz'ora dalla fine impalettando partita e risultato per Vito Bonacorsi, terzo gol in stagione. Laguzzi da un lato, un altro ex, Lanza dall'altro, cambia stretto giro tra i due tecnici. Raciti risponde poi con Cicirello a difesa del risultato e più in là con Platania e Condorelli. Marano non ci sta a passare per vittima predestinata. La trova di testa su assist da punizione di Biondi, ma non va. Poi suggerisce Persciuto che dalla distanza va vicino a dimezzare i conti, cosa che riesce a Marano al secondo tentativo di testa quando il cronometro segna 85 minuti e altri 5. Ce ne saranno di extra time per Marano, tredicesimo gol stagionale. Il Real rientra in partita, ma solo sulla carta e con i numeri. Coco su punizione la manda alta e solo all'ultimo giro di lancette si creerà un'altra chance. Il Real opera l'ultimo cambio di giornata con l'ingresso di Messina e più pericolosa sarà la meridiana da qui alla fine, con tra i neoi entrati Laguzzi, Platania e Condorelli. Quest'ultimo andrà a sfiorare la chiusura definitiva. Il Real è salvo grazie a Pollicano e non solo in questa circostanza, perché il portiere del Real difenderà anche il possibile 1-3 su Saliu al minuto 92. Assalto finale del Real Catani, il 2 pari è possibile, all'ultimo assalto Marano, punizione direttamente in barriera, Ardizzone la riprende e la manda alle stelle. Chiude qui questo sabato sera della Seminara. La meridiana vince 2-1 e si riprende con lo stesso risultato. La sconfitta dell'andata sale con l'euforia del triplice fischio a 29 punti, attendendo l'Accademia Siracusa. A molti dimostratasi imbattibile sarà l'ultimissima chance, l'ultimissima chiamata per il sogno play-off. Il Real Catania invece è sconfitto e scende di qualche gradino dalle vette. Mister Bianco, Gamesport e Ionia a chiudere gli ultimi 270 di campionato, vietato sbagliarle tutte a questo punto. Siamo preparati fino a due settimane, una settimana a questa partita. Siamo partiti già da ore che questa fosse una battaglia. Nel primo e l'ultimo minuto infatti lo è stata, come pensavamo. Però alla fine siamo riusciti a spuntarla. Cosa è mancato oggi? Cosa è mancato oggi? Ci siamo ritrovati, ovviamente la partita contro la team sport, la sconfitta ci ha fatto male e magari l'abbiamo risentito anche oggi. Ci siamo ritrovati da poter combattere anche per il primo posto perché Siracusa ha pareggiato fino a dover stare attenti ai play-off. Cosa è mancato? La scuola ha giocato bene, sicuramente sarà mancata un po' di cattiveria sotto porta nelle azioni che abbiamo fatto. Però devo dire che i ragazzi si sono comportati bene. Comunque stanno girando con una squadra forte. La squadra adesso ha un'anima, un grande carattere. Lasciate probabilmente qualche rimpianto nei risultati del giorno d'andata perché sicuramente potrete essere a sopra. Sì, ci pensiamo sempre. Dopo ogni vittore che facciamo. Tornassimo indietro probabilmente faremmo meglio siccome lo siamo costruiti meglio. Però prendiamo tutto ciò che possiamo. Noi ci crediamo fino alla fine. Non c'è la certezza al 100% ma per noi c'è. Noi cercheremo al massimo di riuscirci. Ora prossima settimana abbiamo la capolista. Noi inizieremo già da domani con la testa ad essere in quella partita e riusciremo a spuntarla. Capitano dei momenti durante l'anno sicuramente non positivi. A voi tocca adesso cercare di reagire con carattere. Certo perché noi abbiamo avuto periodi molto positivi in questa stagione. Abbiamo una rossa composta da molti 2008. Però ovviamente che è 2008. Però naturalmente non possiamo vincere tutte le partite. Ci stanno questi momenti. Dobbiamo essere uniti e riuscire a uscirne. Il mister innanzitutto ci ha dato la carica giusta. Ci siamo uniti più su di noi. Ci siamo concentrati sul gruppo. Anche la società ci ha mostrato molto aiuto. Noi abbiamo cercato di dare il nostro massimo. Sapevamo le nostre potenzialità. Volevamo fare una seconda parte di campionato. Volevamo ribaltare la classifica. Però ci stiamo riuscendo. Ora ci aspettano altre partite toste. Speriamo che questo gruppo continui a viaggiare sulla giusta retta. Quante possibilità vi date nel potere conquistare il risultato positivo con la capolista che è l'Accademia Siracusa? Diciamo che non mi piace dare tanto ora a parlare. Quindi preferisco dare un esito dopo. Per ora ci concentriamo e lavoreremo in settimana per superare la capolista. Per te è stata un'escalation importante. Quelle partite dal campionato provinciale e arrivare qui all'Elite. L'impatto come è stato? L'impatto è stato bellissimo. È importante perché è un salto di campionato. Però con i ragazzi già mi allenavo. Quindi ho dato il mio massimo e mi sono ritrovato dove posso lottare. La dedica di Ragonesi a chi per questa vita? A Mr. Citi che ha creduto in me fino al primo minuto. A Mr. Ezio, a Gianni Iucolano, a tutta la società. Ai miei familiari, i compagni. Anche fino a ora siamo stati tutti quanti qua uniti. Il tuo ruolo, ne parlavamo prima a Telecamere Spende, terzino destro. Tu eri in effetti un centrocampista. sacrificato o fatto con piacere? No, io ho piacere a giocare in tutti i ruoli. Io do il massimo ovunque gioco. Da mediano, punta, terzino. Posso giocare ovunque, non ho problemi. La dedica di Daniel Cicinello per questa vittoria è chi? La mia dedica è sicuramente a tutta la squadra, al gruppo, al mister. Che già dal primo giorno ci ha portati verso una strada migliore. Quella della vittoria. E a tutti i miei familiari.